Il premier italiano Giuseppe Conte dice di essere favorevole al TAV Torino-Lione e scatena così l'ira del Movimento 5 Stelle e degli attivisti. Il primo pensa a una mozione in Parlamento, mostra simbolica visto che da solo non ha i numeri per farla passare. I secondi invece hanno organizzato una grande manifestazione per sabato, ma ecco le parole che hanno suscitato tanto rumore. Alla luce di questi nuovi finanziamenti comunitari, non realizzare il TAV costerebbe molto più che completarlo. E dico questo pensando all'interesse nazionale, che è l'unica ed esclusiva stella polare che guida e sempre guiderà questo governo. Serve ancora un passaggio formale perché il Via Libera al TAV diventi ufficiale. Entro il 26 luglio il governo ha chiamato a chiarire la propria posizione con una lettera all'Inea, l'Agenzia della Commissione Europea.